La cella in cui era stato detenuto era troppo piccola e non rispettava gli standard imposti dall'Europa. Così Thomas Moretti, quarantenne, nomade originario di Bassano, avrà ora diritto ad uno sconto di pena di 57 giorni e a risercimento di 24 euro. A stabilirlo il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, che ha dato ragione all'uomo condannato a 20 anni di carcere per l'uccisione nel 2000 della fidanzata e della suocera dal Bettone e per il rapimento di una bimba di due mesi. Moretti, che deve scontare altri 8 anni per rapina, furto e resistenza pubblico ufficiale, aveva presentato ricorso in Cassazione per il periodo di reclusione scontato tra Vicenza e Rovigo.